L'altra sera, la prima di chiusura forzata, qualcuno aperino nel comune di Coli ha vacillato di fronte all'ordinanza che vieta l'apertura dei bar dopo le 18. Un locale, infatti, ha tenuto alzata la saracinesca anche dopo il coprifuoco. I carabinieri sono dunque intervenuti. Le conseguenze previste dall'articolo 650 del codice penale in osservanza di un provvedimento di sicurezza pubblica contemplano in certi casi gravi perfino l'arresto fino a tre mesi o comunque l'ammenda fino a 206 euro. Quando un locale deve chiudere non si possono ammettere deroghe, ha commentato il primo cittadino Renato Torre. Coli, infatti, si è uniformato all'ordinanza valida fino al primo marzo del sindaco e presidente della provincia di Piacenza Patrizia Barbieri. Tuttavia, basta attraversare il ponte per trovare bar aperti. Due passi da noi, siamo in un altro comune e ovviamente i locali sono tutti aperti. è una cosa un po' un controsenso, ecco, che in un paese a due passi ci sia i locali aperti e da un altro no. O chiudiamo tutti e stiamo tutti in casa o teniamo aperto tutti perché non si blocca un'epidemia o una malattia o un virus in questo caso facendo un po' e un po' o tutti o niente. I carabinieri che sono giunti qua hanno presi dati delle persone che erano all'interno. Non si sa ancora se ci abbiano sanzionato oppure no. Si vedrà con i prossimi giorni cosa decideranno di fare. 12 comuni piacentini, infatti, sui 46 totali, non si sono allineati all'ordinanza di Piacenza, decidendo di lasciare i bar aperti di sera. Grazie. Grazie.